Erano usciti di casa in auto per fare una passeggiata quando è cominciata la lite che è poi sfociata in tragedia. Il dramma si è consumato in contrada Montesecco a Torino di Sangro. Luisa Ciarelli, 65 anni, non è riuscita a scampare alla furia del marito Domenico Giannichi, coetaneo che la rincorsa a piedi e una volta raggiunta la colpita con un bastone o una grossa pietra, lasciandola agonizzante tra gli alberi prima di chiamare il 118. Ma l'arrivo tempestivo dei sanitari e dei carabinieri non è servito a salvare la vita alla donna, per la quale non c'è stato nulla da fare. Domenico Giannichi, ancora sul luogo del delitto, è stato fermato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Ortona, coordinati dal Maggiore Roberto Ragucci. Subito dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto all'ospedale di Lanciano e ricoverato nel reparto di psichiatria. Potrebbero essere stati dei problemi psichici a scatenare il delitto. Le indagini sono coordinate dal PM della Procura di Vasto, Gabriella De Lucia, per i rilievi scientifici e per capire quale oggetto sia stato usato come arma, sono al lavoro i carabinieri del RIS. Sconvolta l'intera comunità di Torino di Sangro, come racconta il sindaco Nino Di Fonso. Giannichi Domenico e che ho la moglie, tutti i familiari, una famiglia stupenda. Però cosa è successo da di loro questa mattina? Non so. Una comunità sconvolta, mai un episodio del genere, non è la nostra comunità. Una comunità unita, una comunità di famiglie e non ci sappiamo dare pace di quello che è successo questa mattina. Quello di Torino di Sangro è il terzo femminicidio che si verifica in Abruzzo nel 2019 dopo l'assassinio di Miaela Rua, 32 anni, romena operaia di una camiceria e mamma di una bambina di 6 anni, brutalmente assassinate in casa sua a Nereto dal compagno Cristian Davorenea, connazionale, camionista di 36 anni, e quello di Agliona Oleinic, la moldava di 33 anni che lo scorso 3 di settembre a Francavilla al Mare era stata raggiunta da diverse coltellate sferrate da Roland Busci, 27 anni, che non si rassegnava alla fine della loro relazione.